Vettore Garzelli, veniamo subito ad una piccola nota dolente. Molti tifosi si sono lamentati perché in queste prime giornate di prevendita per la Juventus sono rimasti sotto il sole alla Servizi Sportivi, che ha preferito, non si capisce perché, non farli accedere lì sotto gli alberi dove magari i botteghini sarebbero stati all'ombra. Come mai? No, prima di tutto non è stata la prevendita dei biglietti della Juventus, piuttosto sono gli ultimi giorni degli abbonamenti. Noi abbiamo dovuto, anche perché ovviamente quando c'è l'assembramento, gestire l'accesso al botteghino di vendita, ovviamente con attenzione e con scrupolo perché così è necessario. Purtroppo anche nel vialetto che conduce ai botteghini, purtroppo c'è sole anche lì. Ieri, per esempio, abbiamo dato un numero anche ad ognuno dei presenti per fare in modo che potessero accedere all'interno del corridoio. Abbiamo fornito loro dell'acqua, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Certo, purtroppo poi siamo incappati anche in giorni di così grande caldo che probabilmente una settimana fa non erano neanche prevedibili. Ci dispiace e ci siamo anche scusati con loro. D'altra parte siamo alla fine, sono gli ultimi, capiamo anche tutto. Biglietti per la Juventus in via del Saurimento? Sì, i biglietti di Juventus invece è molto più facile acquistarli in quanto sono distribuiti nelle ricevitorie di Ticket One e che sono disponibili in quasi 50 ricevitorie e rivenditorie della zona. Ma ci conferma che siamo agli sgoccioli della Prevent? Beh, questo non lo posso dire perché in realtà la Ticket One non ci mette al corrento in tempo reale dell'andamento della situazione. Ovviamente abbiamo degli step progressivi. Certamente sappiamo che c'è una quantità di biglietti venduti molto molto rilevante. Da domani, giovedì, cominceremo a mettere in vendita anche biglietti su scala in campo nazionale con una limitazione che era stata prevista dal prefetto insieme al questore di un solo biglietto acquistabile da ogni singolo soggetto e questo però a livello di tutto il paese quindi non c'è nessuna discriminazione da domani. Abbonamenti verso quota 15.000 ci riusciamo? No, non credo che si arriverà ad una cifra del genere però è certamente un fatto estremamente positivo che stiamo riconfermando certamente il numero dello scorso anno.